Sarebbe da parte mia veramente un'appropriazione di qualcosa che non mi appartiene. La terza, me la ricordo, rispondo alla fine. La seconda era? Che cosa intendi per femminismo? Che cos'è per te il femminismo? I femminismi sono pratiche di libertà nate in situazioni di oppressione e sviluppate da donne che una volta diventati anche teorie, visioni del mondo, discorsi condivisi il più possibile fanno capire tutta una serie di oppressioni che colpiscono le nostre forme sociali diciamo così in senso verticale, in senso orizzontale, cioè dirette verso le donne ma anche dirette verso altri generi, altri gruppi sociali che in altro modo non si possono vedere, non si possono capire, non si possono comprendere non si possono mettere in evidenza. Perché serve che sia come dire la parte sociale oppressa da quel particolare potere configurato in quel particolare modo che deve dire espressamente pubblicamente c'è questa forma di potere che mi opprime se non lo fa lei non lo può fare nessuno e quella forma di potere può essere descritta efficacemente e può diventare argomento di tutto il resto della società solamente quando lo fa e quando è libera di farla quella parte sociale non si può imparare per sentito dire o perché tu la vedi l'oppressione di quell'altro quell'altro deve raccontarla così com'è e raccontare a chi non subisce questa forma di oppressione come è fatta, come funziona e così via. Motivo per cui mi dovreste stare a sentire e ovviamente non c'è nel senso che le donne, ci sono già tantissime donne e ci sono ancora tantissime donne che spiegano queste cose alle donne cioè in effetti non c'è alcun motivo, io normalmente lo faccio agli uomini questo lavoro però mi capita molto spesso di parlare a gruppi misti o anche a volte a donne per due motivi, uno perché tuttora soprattutto in Italia questi argomenti arrivano agli uomini sempre perché ci vengono portati a forza e questo vale per diverse fasce sociali lo studente come il lavoratore, come il professore universitario che è mio ex collega come ci vengono portati a forza nella maggior parte dei casi. A forza che vuol dire? O appunto qualche persona di sesso femminile importante nella loro vita gli dice adesso per favore sta a sentire queste cose e quello lo fa oppure perché purtroppo nella loro vita succede magari qualcosa di estremamente spiacevole o di sgradevole che gli fa capire che hanno bisogno di una voce diversa hanno bisogno di capire qualche cosa alla quale fino a quel momento non hanno mai messo mano e quindi hanno bisogno di stare a sentire questi discorsi che evidentemente dicono qualche cosa che loro non hanno mai sentito, diciamo così. E questo è esattamente quello che cerco di fare io con gli uomini fargli capire che c'è qualcuno che da, qualcuna, che almeno da 300 anni sta cercando di raccontarci cose molto importanti anche su di noi uomini, anche ovviamente su di noi uomini ed è il caso che stiamo a sentire perché queste cose, come dicevo prima, se non ci vengono dette da quella parte non ce le dirà mai nessuno. Innanzitutto non ce le diremo mai noi, tra noi, perché sono discorsi estremamente scomodi, sono discorsi che siamo stati educati a evitare, che siamo stati educati a non sentire e quindi serve un grosso sforzo per fare questo passo in una direzione che ci è normalmente impedita o comunque vietata o comunque, come dire, discreditata. Ecco, questo sì, tra l'altro siamo educati appunto a non proprio non porgere orecchio a questo tipo di discorsi, mentre invece sarebbero estremamente importanti da stare a sentire e da fare nostri. Fare nostri ovviamente nella modalità in cui lo può fare un uomo, cioè non fare nostri ovviamente non ha senso che io mi metta a fare quello che fanno le femministe, ovviamente ridico, serve in un certo senso tradurre queste cose in un discorso, in una forma di vita possibile per chi donna non è. Ti chiedo un'altra cosa, tu fai all'inizio del libro, dai una serie di definizioni, ti chiederei di dare una definizione di sessismo e di patriarcato, in maniera da inquadrare un po' tutta la questione. Allora, innanzitutto perché faccio così? Perché è una cosa che faccio spesso nei… no, in effetti lo fate tutti i libri, ho scritto questa cosa, e per un motivo molto semplice. una delle prime cose che impari affrontando gli studi di genere è che si usa un vocabolario, un lessico, non di termini diciamo tecnici o specifici, ma usi parole che effettivamente già si usano nel linguaggio comune, però purtroppo con un significato diverso. E moltissime persone pensano di avere un'opinione ben fondata su questi argomenti, travisando completamente il significato di queste parole. La prima che viene costantemente travisata è per l'appunto femminismo, è femminista e questa credo sia una cosa che sapete molto bene. E così come tutte le altre in genere di questi discorsi, perché appunto sono anche parole comuni, sono anche parole che per un uso molto, secondo me, scorretto, che fanno tanti media generalisti, sono entrate nel nostro lessico comune in maniera scorretta, sbagliata, cioè proprio veramente fischi per fiaschi in alcuni casi, cose completamente diverse dalla realtà. E quindi è necessario, se ci vogliamo intendere, anche in un libro, inizialmente intenderci sui termini, cioè di che cosa stiamo parlando, questo è il significato. Sessismo è quello strumento di potere che attua una discriminazione secondo il genere. È una cosa che vediamo in atto tantissime volte nella nostra quotidianità, nella stragrande maggioranza dei casi usato dagli uomini verso le donne, ma anche, al contrario, o anche tra uomini e tra donne. Proprio perché essendo uno strumento di potere lo usa e chiunque lo trova efficace, e chiunque ha, come dire, la possibilità di usarlo per ottenere un vantaggio sociale. E i casi sono tantissimi, dal linguaggio al comportamento, alle abitudini, alle strutture, diciamo, organizzative di una società, di un'azienda, a volte sono sessiste, nel senso che attuano o preferiscono una particolare discriminazione, e quindi effettivamente fanno sessismo, producono, diciamo, sessismo. Il patriarcatto è più in generale quel sistema di potere che ci viene da una tradizione molto antica e che lega alla figura dell'uomo adulto alla figura di guida in ogni costruzione sociale nel quale serve, appunto, si usano poteri tra i loro elementi. Questa cosa, quindi, vale per la famiglia, come vale per lo Stato, come vale per la società, come vale per un'azienda, come vale per qualunque organizzazione di persone. Si tende a replicare l'organizzazione patriarcale perché è quella, come dire, da più tempo tradizionalmente consolidata e che noi quindi confondiamo per naturale, spontanea. La possiamo immaginare come la classica struttura gerarchica a piramide, pochi al comando, tanti sotto, diversi gradi e livelli, ciascuno, come dire, ha potere o ha più potere o ha più privilegi su quello inferiore né ha meno su quello superiore. Questo modo di organizzare le persone tra loro si riflette, diciamo, in ogni ambito, anche in quello relazionale, familiare, affettivo. In fondo anche la famiglia è anche una struttura di potere che tende a replicare sempre questo modello. Il problema più difficile quando si affrontano gli studi di genere è capire che quello che è da, appunto, smantellare, quello che sarebbe da mettere in discussione e quello che tanti femminismi costantemente mettere in discussione è questa struttura di potere. Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi al vertice di queste strutture ci siano uomini etero-bianchi non significa che i femminismi ce l'hanno a morte e vogliono vedere sterminati gli uomini etero-bianchi. No, significa che vogliono abbattere questo sistema di potere. Chiunque ci sia al suo posto. Quando sentiamo e leggiamo i discorsi, per esempio, delle femministe nere americane che ovviamente soffrono almeno di una doppia discriminazione in quanto donne e in quanto nere, raccontano molto bene che cosa significa avere accanto a sé degli uomini, dei compagni di lotta dal punto di vista del razzismo, perché ovviamente sono neri anche loro e soffrono anche loro di questa discriminazione, ma degli avversari politici quando si tratta di sessismo, perché in quanto uomini esercitano un'oppressione sessista. Ed è difficilissimo per loro far capire ai loro compagni di lotta, che spesso sono anche i loro compagni di vita, questo doppio meccanismo. Questo per fare un esempio di quanto sia a volte difficile distinguere i diversi piani. Sì, questo è un aspetto che si vede anche poi in tutte le varie organizzazioni. Allora, noi siamo un sindacato, quindi logicamente siamo abituati a lottare contro tutta una serie di sfruttamento. Poi però ci rendiamo conto che invece quando si tratta di questioni di genere, quindi di oppressione di genere, vediamo che invece chi è disponibile a lottare insieme a noi contro il padrone del momento, poi nella maggior parte dei casi non si riconosce come oppressore quando si tratta di questioni di genere. questa è una cosa che vediamo piuttosto spesso. Ti chiedo intanto per entrare proprio nell'argomento, tu nel libro parli di uguaglianza e di parità, come due concetti che a volte vengono utilizzati in maniera intescambiabile, ma che in realtà non lo sono. E quindi ti chiederei appunto di definire anche questi due concetti. L'uguaglianza è quella situazione ottimale che cerchiamo di mantenere quando tutti hanno gli stessi diritti e la stessa facoltà, la stessa possibilità di esercitarli. La parità è invece quello stato che vuoi raggiungere quando tu ti accorgi che se anche tutti e tutte hanno gli stessi diritti, non tutti e tutte sono in grado di esercitarli. Lavorare per la parità significa dare a ciascuno, a ciascuna la possibilità di esercitare i diritti che già avrebbe, ma che di fatto non riesce a esercitare. Quando quindi in una situazione dispari, in una situazione di disparità sociale, tu punti all'uguaglianza, a volte, anzi molto spesso, non riesci a distinguere il fatto che partendo da una situazione dispari, se dai ancora a tutti e a tutte le stesse possibilità, la situazione rimane dispari, perché non hai eliminato il problema di partenza. Lavorare per la parità invece significa appunto pareggiare le possibilità, quindi dare, come dire, di più evidentemente a chi ha avuto o ha tuttora fin dall'inizio degli svantaggi sociali, la possibilità di non esercitare i suoi diritti o non ha proprio quei diritti e regolare meglio chi invece, avendo le possibilità e i diritti, in un certo senso, ne abusa o comunque si trova davanti a sé una serie di possibilità sociali che diventano privilegi perché qualcun altro che dovrebbe averli invece non li ha. Sì. È proprio il caso, che ne so, di tante situazioni lavorative nelle quali ci sono leggi e regolamenti che dovrebbero stabilire uguali salari, uguali paghe, uguali benefits, diciamo così, aziendali, però poi di fatto queste cose non riescono a rigadere in pari modo su tutti e tutte. Di fatto succede qualche cosa che rende la situazione dispari. Allora il problema è quello della parità, non quello dell'uguaglianza. L'uguaglianza tu la prendi pure, però di fatto non c'è. Sì, in effetti diciamo noi almeno in Italia da un punto di vista prettamente normativo e legale formalmente una parità ci sarebbe, ci sarebbe una parità nelle questioni lavorative, pari retribuzione, eccetera. Poi invece vediamo che nella pratica questo non succede perché comunque le condizioni di partenza sono differenti, le donne vivono situazioni differenti, devono sospendere l'attività lavorativa per periodi molto lunghi, in caso di maternità, di gravidanza, eccetera, perché abbiamo un sistema che sebbene le pari opportunità siano praticamente in tutti i governi, poi in realtà questo non accade perché il lavoro di cura del lavoro domestico è sempre a carico delle donne per cui abbiamo visto in questo periodo soprattutto che c'è stato un carico veramente eccezionale sulle donne perché è tutto quello che è stato fatto dai governi ma non solo in Italia ha riguardato tutta una serie di interventi che però danno per scontato il fatto che a conciliare lavoro e famiglia debbano necessariamente essere donne quindi i vari bonus e questo è un lavoro sociale esatto quindi andrebbe in qualche modo non dico retribuito ma perlomeno riconosciuto regolato e invece è lasciato così in una zona grigia sì poi parleremo anche di questa cosa perché anzi parliamo subito perché questo è un altro aspetto importante nel senso allora noi ci rendiamo conto diciamo nell'attività sindacale che ci sono tutta una serie di attività che fino a diversi anni fa fino a un certo periodo storico non erano considerati come lavoro produttivo ed erano tutti quei lavori diciamo di cura quel lavoro domestico che non era lavoro retribuito adesso in realtà una serie di attività di questo tipo sono entrati diciamo nel mondo del lavoro produttivo e ci sono tutta una serie di aziende che offrono servizi diciamo di assistenza di cura eccetera questo però ha comportato un impoverimento di tutti quei settori nel senso che in quel caso le retribuzioni sono molto più basse indipendentemente dal fatto che poi siano uomini e donne a svolgerlo perché è come se correggimi se sbaglio io ho questa impressione ma dimmi tu cosa ne pensi è come se questo tipo di attività fosse legato alla cura e quindi a quella idea di sacrificio che ci deve essere dietro al lavoro di cura e di conseguenza non è necessario retribuirlo insomma bene no non è come se è proprio così è l'ulteriore di prova che se non cambi le condizioni culturali sotto le quali un certo lavoro è considerato tale quel lavoro continua ad essere considerato di serie B un lavoro sì appunto scarsamente retribuito un lavoro non un vero lavoro no? non un lavoro vero un lavoro che sì vabbè però è quello che succede in Italia rispetto a tanti altri paesi del mondo con gli insegnanti e le insegnanti il discredito sociale sulla classe degli insegnanti è spaventoso e questo fa sì che fare l'insegnante non sia diciamo così un traguardo sociale ambito per la maggior parte delle persone quindi ovviamente i livelli di attribuzione sono bassi perché nessuno considera quello di nuovo un lavoro vero si continua a raccontare ed è ancora molto forte il pregizio sociale per cui chi fa l'insegnante c'è tre mesi di vacanza all'anno tutta questa serie di cose che sono esclusivamente condizioni culturali che quindi tu non trovi come dire codificate da qualche parte non puoi intervenire in un certo senso regolativamente legisimamente stanno nel senso comune e poi portano invece un grandissimo discredito sociale che qualcuno paga con il suo lavoro con la sua retribuzione bassa con lo suo scarso credito sociale così via nella maggior parte dei casi sono i lavori femminili che soffrono di queste condizioni culturali che li rendono di fatto di nuovo lavori di serie B anche se nessuna legge lo dice la realtà dei fatti è quella la cosa molto curiosa è che a riprova di questo fatto ci sono rari casi nei quali quel discredito sociale arriva anche su lavori maschili e abbiamo lo stesso identico tipo di discriminazione immagino che lo sappiate qualche volta vi sarà successo l'Italia produce degli ottimi operatori di asilo nido anche uomini quando un uomo va in un asilo nido e tenta di fare la sua professione si trova ostacoli sociali fortissimi famiglie che dicono no io il mio bambino non ce lo porto qua perché c'è un uomo che si prende cura di lui che questo è un forte pregiudizio sociale che impedisce a dei lavoratori di fare il lavoro per il quale hanno studiato per il quale sono qualificati e per il quale ci sarebbero pure gli spazi per farli lavorare perché in effetti è una cosa che serve eppure non ci riescono e non ci riescono per un mero motivo culturale perché l'azienda a un certo punto gli dice no scusa io non ti posso far lavorare perché se no le persone non mi portano i bambini e noi chiudiamo questa è una situazione discriminatoria che colpisce gli uomini è ovvio che non sto facendo un paragone che sia chiaro sono sempre stiamo parlando di numeri assolutamente eccezionali ma è la prova che quando il meccanismo sociale discriminatorio colpisce non guarda e faccia a nessuno colpisce e colpisce di nuovo per una discriminazione di genere se socialmente non si ritiene che l'uomo debba fare quel lavoro l'uomo non ci riesce letteralmente non riesce a farlo perché trova una serie di ostacoli che glielo impediscono cosa che appunto alle donne è ben nota in tanti altri settori e in tanti altri lavori sì mi veniva in mente un mio amico tempo fa che mi diceva che cercava lavoro che aveva trovato aveva fatto un colloquio come assistente ad un dentista però in quel caso l'uomo non lo può fare si sentiva doppiamente discriminato comunque sempre relativamente alla questione di cui parlavamo prima cioè il fatto che le normative contro le discriminazioni in Italia ci sarebbero ma poi sono largamente disapplicate ci siamo resi conto facendo delle indagini sulle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro che in realtà c'è una normativa ma non c'è giurisprudenza praticamente nel senso che nella maggior parte dei casi è proprio difficile che le persone si rivolgano ad un giudice per chiedere giustizia nel caso della discriminazione un po' perché non la riconoscono come tale e quindi è già un problema e poi vabbè c'è tutta la questione del rapporto di potere nel mondo del lavoro ma è chiaro questo quindi diciamo il nostro il nostro percorso nelle discriminazioni era iniziato proprio da questo dal cercare di dare poi alle persone che si avvicinano a noi anche degli strumenti per riconoscere quali sono i comportamenti che possono essere discriminatori che non sempre c'è oppressivi le donne che le risposte che ci danno molte donne è che quando noi diciamo che non non è giusto dover essere messe da parte nel momento in cui una ritorna dalla gravidanza e quindi il datore di lavoro non accetta il part time quindi te ne devi andare per forza di cose è un comportamento discriminatorio molte donne ci dicono vabbè ma quella è una scelta ecco di nuovo quando è in un certo senso ancora troppo forte l'elemento culturale anche se hai a disposizione uno strumento quello non viene uno strumento legale quello non viene usato e la cosa purtroppo non è paradossale perché si tratta di una situazione che lavorando con le discriminazioni di genere si incontra molto spesso cioè se io letteralmente non vedo dove sta la discriminazione io non uso lo strumento che pure avrei a disposizione anche quando questa discriminazione colpisce me la questione dell'avere un figlio c'è appunto un genere che ti dice vabbè ma è una cosa che alla fine ho scelto io devo prendere le conseguenze di una mia scelta dimenticandosi in quel momento una delle cose fondamentali che almeno ancora per ora i figli si fanno in due nella stragrande maggioranza dei casi e quell'altro non subisce alcuna discriminazione anche se e anche qui questa è ulteriore riprova di quanto certi meccanismi colpiscano le donne da quando esiste in Italia la possibilità che gli uomini prendano il congetto parentale si è già è già stata come dire studiata e certificata una pericolosissima tendenza che è già avvenuta nei paesi dove da più anni esiste il congetto parentale maschile molte aziende considerano la scelta dei padri di usufruire del congetto parentale quando non è obbligatorio mentre ci sono dei paesi nei quali è obbligatorio e lì non c'è niente da fare quando è una scelta dei padri e anche gli uomini che scelgono il congetto parentale immediatamente dopo sono considerati dall'azienda lavativi meno propensi a fare certe carriere meno desiderosi di avanzare meno meno adatti a missioni particolari o a target di lavoro obiettivi da raggiungere particolari a ulteriore riprova che quello strumento come dire e quella imposizione culturale è fortissima e appunto come dire chi la usa la usa anche se in minima percentuale sono gli uomini che la usano viene colpito lo stesso è chiaro che in questo caso abbiamo appunto davanti agli occhi una cosa che deve essere prima come dire bisogna metterci mano prima dal punto di vista culturale finché le donne tantissime donne continueranno a pensare che eh vabbè però me la sono cercata perché ho fatto questa scelta è chiaro che tu potrai mettere a disposizione gli strumenti più favolosi del mondo quella non li usa c'è poco da fare e non li usa perché è educata anche lei a un'idea patriarcale per cui il peso di quella decisione è solo suo e quindi anche le conseguenze sociali di quella decisione sono solo le sue finché non si combatte questo distorto modo di pensare alla genitorialità non c'è niente da fare non c'è niente da fare perché appunto tu hai anche lo strumento ma poi tanto lei non lo usa perché non non vede appunto la discriminazione non la sente beh anzi appunto arriva a dire come si sente dire beh però l'imprenditore c'ha ragione perché in fondo io gli ho causato una perdita cosa che per qualunque altro come dire avvenimento naturale legato al nostro corpo non si fa non si fa è considerato diciamo così uno strano incidente sul lavoro diciamo così un particolare incidente sul lavoro nel quale è colpa tua e questo purtroppo è un problema esclusivamente culturale già che va combattuto prima possibile senti prendo spunto dall'ultima parola che hai detto corpo nel libro tu parli di corpo e quindi della necessità per gli uomini di iniziare una riflessione anche sulla questione del corpo tra le tante conseguenze culturali del patriarcado c'è il fatto che gli uomini non si vedono come un genere gli altri sono il genere le donne sono un genere gli uomini non etero sono un altro genere le donne non etero sono un altro genere e così via gli uomini sono la normalità il grado zero e questo li porta per esempio appunto ad aver edificato un sistema culturale che dice alla donna beh se partorisce è colpa tua perché posso dire una cosa del genere perché riesco a costruire un sistema sociale che mi insegna questa cosa perché io mi metto come dire fuori da questa situazione sociale io sono il grado zero sono la normalità la donna è un uomo che però funziona male c'ha qualcosa che non va e adesso io non voglio colpire ovviamente le convinzioni e ciò in cui ciascuno ciascuna di voi crede perché non c'entrano nulla ma questo della donna come un uomo come la derivazione di un uomo è il racconto biblico è già raccontato in quel libro che ha formato tantissimo della nostra cultura occidentale che è la Bibbia la costora di Adamo cioè un sottoprodotto diciamo così del corpo maschile quindi c'è già questo racconto potentissimo culturale che dice che la donna ha un corpo che ha qualcosa in meno rispetto al corpo dell'uomo su questo sono stati costruiti a seconda dei vari dei vari tempi culturali che si sono succeduti tutta un'altra serie di racconti fantastici che non hanno alcuna base reale in realtà la massa muscolare siccome io sono più grosso ho più muscoli allora io sono più adatto a certi lavori e meno cosa ampiamente smentita dalla scienza un sacco di volte cosa ampiamente smentita semplicemente facendo un po' di chilometri perché in altre parti del mondo dove la fisionomia tra uomini e donne non è così differente questa credenza culturale non c'è e dove non è stata forte l'influenza della Bibbia non c'è questa cosa non la dice nessuno non la pensa nessuno non c'è semplicemente non c'è non è un dato culturale la storia del testosterone noi abbiamo il testosterone quindi gli uomini sono più aggressivi sono più politivi sono quelli che fanno la guerra sono quelli che in azienda prendono le decisioni perché si assumono le responsabilità sono quelli coraggiosi sono quelli capaci altra balla smentita il testosterone non dice come dire dice quanto sei più o meno aggressivo ma non dice verso chi porti la tua aggressività quello è un dato culturale e vale anche per le donne e alle donne che viene costantemente insegnato che non devono essere aggressive fin da quando sono bambine perché non è non è non è adatto le donne essere aggressive perché e devono eventualmente sfogare la loro aggressività in un altro modo in un altro ambito in un'altra situazione non in quella pubblica per esempio creando così una serie di ruoli sociali nelle quali uomini e donne pensano di essere naturalmente portati perché appunto la natura dice così e invece non è mai la natura mai è invece una costruzione culturale la quale noi crediamo e che poi porta quando la società si complica come sta succedendo sempre più velocemente negli ultimi decenni a conflitti insanabili perché quel modello non funziona più quei modelli di genere non funzionano più non stanno funzionando più e ormai è una cosa di cui ci si accorge da tantissimo però ovviamente prima di mettere mano a questi modelli la lotta è difficilissima perché da una parte per ovvi motivi c'è uno dei generi che l'ha capito prima che queste cose vanno cambiate e per forza l'ha capito prima è quello che subisce di più e quindi come sempre è quello che si sveglia e dice oh no così non può anavatti e mette in campo una serie di strategie per evitare questi poteri chi sta in cima a questa gerarchia ovviamente se ne accorge con grande ritardo o non se ne accorge affatto o ha a disposizione tutta una serie di strumenti per evitare di assumersi la responsabilità di questi ruoli sociali perché poi come dire la questione di fronte poi ai problemi sociali è questa assumersi una responsabilità anche il senso di colpa sociale è un prodotto culturale e anche questo le donne lo sanno bene che quanto è difficile da affrontare il senso di colpa ma anche questo è un prodotto culturale basta cambiare alcune così cambiare un po' in altre situazioni culturali in altre civiltà in altre questa cosa non c'era ci siamo inventati il senso di colpa per attribuire a qualcuno come diciamo prima il caso della donna che lavora è proprio quello lei si sente in colpa per una cosa di cui non c'entra nulla il senso di colpa e invece gli arriva e letteralmente gli disinnesca proprio quella sana forza che dovrebbe mettere in campo per cambiare la situazione sociale invece non lo fa la difficoltà ad affrontare questi problemi è che ciascuno ciascuna si deve mettere mano alla propria identità di genere e se nel caso delle donne la cosa è comunque difficile ma ormai hanno molti decenni di esempi da seguire di donne che hanno lottato che hanno combattuto che hanno ottenuto dei risultati e quindi se hai voglia di impegnarti in questa lotta hai di fronte a te degli esempi da seguire per gli uomini questa cosa è tutta da costruire ancora quando faccio questo discorso degli uomini molti mi dicono vabbè ma se io faccio le cose e dici te faccio come dici perché poi non lo dico io ovviamente ma insomma seguo le cose che tu dici che tu scrivi che cosa divento che di per sé sembra una domanda estremamente ingenua e stupida in realtà nasconde il nocciolo del problema si ha paura di diventare non si sa bene che cosa perché si perdono delle caratteristiche si perdono e si lavora per perdere delle caratteristiche che tutto il mondo culturale intorno a te ti dice essere le caratteristiche maschili cioè le tue e purtroppo è questo il discorso falso non sono maschili sono caratteristiche di una determinata società io dovrei essere libero di decidere quali sono le mie caratteristiche ma in realtà gli uomini non lo sono quasi mai perché anche loro da quando sono piccoli gli viene raccontato che gli uomini sono fatti così tu devi fare così se vuoi essere un uomo devi fare questa cosa e tu ci credi perché ovviamente hai intorno a te una cultura intera che te lo racconta non solo i tuoi genitori i tuoi familiari il cinema la televisione la letteratura tutto te lo racconta ti fa questo stesso racconto sociale e tu ovviamente ci credi senza criticarlo perché dici vabbè allora le cose stanno così sono fatte così purtroppo non è vero è un racconto sociale che può essere cambiato ma i racconti sociali si cambiano solamente quando tutti e tutte cominciamo a farli cambiare non è che arriva uno dall'alto e decide di cambiarlo sì qui mi viene in mente diciamo tutto l'argomento invece del linguaggio quindi degli stereotipi che vengono poi perpetrati con il linguaggio tu parlavi nell'altro tuo libro dei proverbi dei modi di dire degli insulti che poi sono sempre molto sessisti per cui siamo abituati sì siamo abituati siamo abituati a usare il linguaggio come uno strumento e indubbiamente è anche uno strumento però il linguaggio è per esempio anche un deposito di conoscenza basta rifletterci un po' ci rendiamo tutti e tutte conto che la stragrande maggioranza delle cose che noi sappiamo del mondo non le sappiamo perché le abbiamo fatte perché ne abbiamo avuto esperienza le sappiamo perché ce l'hanno dette le sappiamo attraverso il linguaggio il linguaggio diventa il deposito di tutta una serie di conoscenze condivise che però bisognerebbe avere la forza di criticare o di vedere se effettivamente si applicano nella nostra vita così come sono state raccontate una cosa che faccio spesso nella scuola perché è molto divertente e mi permette di iniziare facilmente questi discorsi è far riflettere i ragazzi e i ragazzi sugli insulti sulle parolacce basta tirarne giù un elenco delle più diffuse e si scopre che riguardano tutte il corpo delle donne quello che pensano le donne quello che fanno le donne quello che dicono le donne non è un caso evidentemente c'è un genere che è considerato il paradigma negativo l'esempio da non seguire rispetto a tutti gli altri ed eccolo lì quando spieghi ragazzi e ragazze che tecnicamente letteralmente figlio di metteteci la versione regionale che preferite significa tu non sai chi è tuo padre cioè è un classico insulto patriarcale perché significa che tu attribuisci all'altro un potere minore del tuo perché lui non sa chi è suo padre per colpa delle abitudini della madre questa banale spiegazione già fa tutto un racconto sociale su come costruiamo i nostri ruoli e ridare questa responsabilità ai parlanti a chi adopera certe espressioni farlo rendere conto di che cosa vuol dire quando dice una cosa del genere permette di vedere in maniera molto più critica tante cose che accadono hai voglia a dire sono solo parole noi nasciamo in un linguaggio che esiste già le forze sociali che sono conservate nei nostri nei nostri parole nei nostri modi di dire non è che sono create da noi sono già lì quando io le adopero mi devo rendere conto che uso una forza uso un potere che non è il mio arriva da molto lontano quindi un insulto che a me può sembrare banale una parola buttata lì si porta appresso millenni di storia che colpiscono non solo la persona magari che ho davanti ma tutto il suo genere immagino che molti di voi sappiano la storia della parola isterica è una storia che già da sola fa paura già da sola basterebbe a spiegare tantissimo di questi problemi una parola nata per colpire un genere come arma sociale per colpire un genere quello è e ancora oggi viene usata così perché quando una donna si arrabbia e vuole cercare di farci ragionare su qualcosa che evidentemente lei vede lei sente e noi no non gli diamo delle isteriche eccola là è rimasta per uno di perfettamente intatta questa forza sociale e ancora boom ancora la tiriamo quando ci pare contro qualcuna contro qualcuno molti appunto mi dicono come fanno le parole come fai solo ragionando sulle parole a far cambiare le abitudini sociali perché la maggior parte delle abitudini sociali sono espresse e conservate nel linguaggio quando io mi sforzo perché all'inizio è indubbiamente uno sforzo e decido no non voglio più usare certe espressioni se esiste no non voglio più farmi venire in mente paragoni metafore immagini se esiste no faccio un grosso sforzo ma dopo un po' letteralmente anzi quasi subito in realtà letteralmente io comincio a vedere il mondo in un altro modo perché è il linguaggio che adopero che mi fa vedere o non vedere certe cose nel mondo intorno a me se io faccio questo sforzo di cambiare le parole che adopero letteralmente comincio a vedere un mondo completamente diverso per esempio riesco ad accorgermi di tutta una serie di forme di oppressione che prima non vedevo proprio non vedevo neanche però ecco come dicevamo all'inizio serve che quest'altra parte ti racconti questa realtà e che tu ovviamente la stai a sentire in realtà probabilmente anche il linguaggio il modo di comunicare poi svela i rapporti di potere nel senso che mi sembra fosse Bourguier che diceva che il il vero potere è quello che non si vede nel senso che è talmente tanto poi cosiddetto naturale che non lo vediamo più e proprio questo è uno degli elementi per cui si perpetra un sistema patriarcale che dura da millenni insomma quindi cambiare il linguaggio permette poi di svelarlo e di riconoscerlo quando si vede anche negli altri contesti questo questo rapporto di potere in realtà oggi poi la questione del pensavo anche agli altri tipi di linguaggio nel senso che certo il linguaggio è importante ma anche quello non verbale nel senso tutte le abitudini che si danno ai bambini il colore certe cose si possono dire certe cose non si possono dire non piangere perché è da femminuccia quindi l'idea che i maschi non postano esprimere le proprie emozioni non possano avere contatto con con se stessi insomma questo è un elemento che di cui tu parli nel libro e che secondo me invece andrebbe spiegato meglio proprio perché manipoliamo molto facilmente potentissimi simboli sociali e non ci rendiamo molto spesso conto di che storia hanno dietro e che forza hanno dietro con tutto l'amore del mondo ancora oggi tanti genitori tante coppie di genitori mettono un fiocco colorato alla porta quando nasce il loro figlio ma quel fiocco il colore di quel fiocco è il racconto di una storia sociale è come dire questo bambino questa bambina deve seguire quella storia e non ne ha altre possibili a disposizione e quei due poi nessuno racconta perché si sono scelti quei due colori per identificare maschile e femminile non lo sarà nessuno tanti uomini ancora oggi reagiscono con notevole disappunto nel maneggiare oggetti rosa o nel vestirsi di colore rosa poi ogni lunedì mattina comprano un giornale di colore rosa e non si chiedono perché boh hai voglia raccontargli la maglia rosa data al ciclista più bravo è rosa perché all'inizio degli ottocento il rosa era il colore della virilità del valore maschile ed è storia è raccontata era la versione diciamo civile del rosso il colore militare per farlo in maniera più edulcorata nascevano le prime società sportive appunto a metà ottocento quando si organizzava socialmente il tempo libero anche in società sportive che derivavano poi da quelle del luogo di lavoro e si dava la divisa era tradizionalmente di queste associazioni era inizialmente il colore rosa ancora oggi in molte società sportive ce l'hanno il colore rosa nei loro colori sociali poi è successo qualche cosa che ha cambiato ha stravolto completamente questa idea sociale e adesso il rosa è tradizionalmente associato a tutto ciò che è femminile l'Italia è l'unico paese del mondo che chiama le quote rosa quote rosa tutto il resto del mondo si chiamano quote di genere giustamente perché poi a seconda dell'opportunità si adoperano verso l'uno o verso l'altro solo noi le chiamiamo quote rosa la potenza di questo simbolo e di tanti altri letteralmente conforma le nostre vite a una serie di ruoli sociali ma noi purtroppo ci riflettiamo pochissimo e non ci rendiamo conto di quanto sono condizionamenti molto potenti che letteralmente ci fanno prendere delle decisioni importanti nella nostra vita oppure non ce le fanno prendere eppure la loro forza è lì e non ce la raccontiamo e noi ci raccontiamo quanto tutto sommato non è difficile farne a meno criticarli e cambiarli in realtà allora in questi ultimi in questi ultimi anni diciamo i discorsi che riguardano il genere per fortuna sono molto molto più diffusi sebbene ci sia ancora molto da fare soprattutto in Italia e nella teoria poi quando si si trova a parlare di questioni di genere siamo sempre tutti d'accordo nel senso che nessuno si dichiara maschilista nessuno assolutamente dice di rispettare perfettamente è capitato a me personalmente in famiglia nel senso che parlavo con una persona alla quale voglio molto bene il quale mi diceva che no io assolutamente non faccio nessuna distinzione tra uomini e donne però poi facendolo riflettere sul fatto che ok però se tu dovessi scegliere un chirurgo un cardiologo che ti deve fare un intervento tendenzialmente scegli un uomo perché ti ispira più fiducia perché hai dietro tutto un portato di maggiore competenza mentre magari se scegli un pediatra allora quello potrebbe essere una donna e quindi ha dovuto riflettere questa persona sul fatto che sì effettivamente ci sono dei portati culturali che non vediamo e che ci portiamo dietro dicevi qualche volta mi sembra di averti sentito in un'intervista che dicevi che noi tutti pensiamo di poter parlare di questioni di genere solo perché siamo maschi o femmine e poi in realtà c'è tutto un pensiero dietro che non conosciamo scambiamo una cosa assolutamente ovvia avere un'identità di genere con la capacità di parlare dei condizionamenti che ci hanno portato ad avere un'identità oppure un'altra per questo ci vuole una attrezzatura che normalmente uno non ha deve studiarsi certe cose per comprenderla perché è uno studio quando vado in un'azienda a parlare e gli racconto che il fatto che le caratteristiche di leadership normalmente usate in azienda sono caratteristiche esclusivamente maschili e questa cosa la si è vista capita studiata negli anni 70 più di 50 anni fa vedi facce sbalordite e ho capito che ci posso fare però è così questa cosa è nota da parecchio ecco perché il soffitto di cristallo ecco perché poche donne arrivano ai vertici perché gli vengono vengono espressamente richieste caratteristiche culturalmente non volute non adatte a loro eccolo dove è la trappola che se tu chiedi certe caratteristiche in partenza che tu non hai è a voglia tu poi sembrava quanto te pare non ce l'hai da cui poi nel linguaggio si conserva il terribile modo di dire donna con le palle che è esattamente la metafora sessista per eccellenza quella persona ha tante tali capacità che però tradizionalmente non sono raccontate come sue vere capacità che io per spiegarmela gli devo letteralmente attaccare quei genitali che caratterizzerebbero quelle caratteristiche se sei evolutiva sei capace sei brava nel tuo lavoro prendi decisioni rapidamente allora ce le palle perché de tuo non lo sapresti fare senza questi oggetti che ti danno questi poteri e questo conserva e racconta appunto una storia di ruoli che resiste che resiste ancora tantissimo per quanto riguarda poi che danni sociali provoca questo modo di pensare gli uomini italiani non vanno dall'andrologo le donne italiane vanno dal ginecologo prima possibile subito perché subito c'è adesso il controllo sul loro corpo come funziona come non funziona anche giustamente ovviamente gli uomini no non ci vanno vanno dall'andrologo quando hanno dei problemi molto spesso talmente ormai cronicizzati che non c'è niente da fare e gli andrologi si lamentano come associazione professionale non solo di questo ci fate intervenire sempre quando ormai è troppo tardi perché non siete mai venuti non vi abbiamo mai visto non vi sottoponete a controlli frequenti in quella zona del corpo in cui dite che ve preme tantissimo e invece la lasciano lì non la fanno toccare a nessuno però altra cosa che farà ridere ma purtroppo è la realtà ci mandano le loro compagne le loro mogli gli andrologi si vedono arrivare le mogli le donne che dicono la sai mio marito c'ha questa cosa c'ha quest'altra e giustamente il medico dice sì posso capire tutto però io devo venire lui perché io devo letteralmente mettere le mani in quella zona del corpo che è il massimo del tabù che tu puoi immaginare per l'idea tradizionale maschile nessuno soprattutto nessun uomo può azzardarsi a mettere le mani lì perché questo significa ovviamente un attacco diretto alla mia virilità tant'è vero che neanche tra loro nella sta grande maggioranza di casi gli uomini confessano null'altro di essere andati dall'andrologo per qualche motivo perché se il tuo amico sa che tu sei andato dall'andrologo comincia a allontanarsi pensa che c'è qualcosa che magari può venire anche a lui questi tremendi comportamenti sociali derivano esclusivamente da condizionamenti culturali dei quali non si parla perché per esempio i ragazzi quando sono giovani quando sono adolescenti e cominciano a farsi giustamente domande sul loro corpo nessuno gli dice guarda c'è un medico che fa questo di lavoro vai da lui impara ad andarci ti spiegherà un sacco di cose su quella parte del tuo corpo che ovviamente è molto importante chi lo fa? nessuno e quindi la situazione poi è quella che è da una parte uomini che rimangono ignoranti di cose importantissime sul loro corpo per un bel po' di anni quando tra l'altro dovrebbero saperlo usare abbastanza bene insomma perlomeno con una certa cognizione di causa e quindi professionisti che in un certo senso non riescono a fare il loro lavoro perché purtroppo intervengono solo in situazioni ormai cronicizzate disperate per problemi che poi hanno a loro volta potentissimi influssi su quella che è la vita quotidiana degli uomini perché sappiamo come dire anche questo è un racconto sociale che si fa molto spesso ah lo stress provoca l'impotenza ok sì sta cosa abbiamo capito tutti però continuiamo a non raccontare allora fai qualcosa migliora le tue condizioni di lavoro migliora i tuoi rapporti con l'altro sesso migliora il rapporto con il tuo corpo no questo continuiamo a non dirlo continuiamo a raccontarci che lo stress è causato l'impotenza vabbè ok abbiamo capito però continua ad essere un racconto zoppo un racconto che non che non sta in piedi senti parlavi della questione delle quote rosa allora anche di recente abbiamo assistito a questo teatrino della questione delle quote rosa nei vari partiti no che ogni tanto ritornano ritornano fuori quello che ho letto da più parti è però vedi che nei partiti di destra invece si riconosce alle donne le capacità diciamo di essere leader e io ogni volta sto lì a dire sì qui la questione non è che sia biologicamente donna non è questo che ci interessa mi piacerebbe invece avere la tua opinione su questa cosa perché io credo che ecco la Meloni non sia proprio un esempio di persona che possa in qualche modo cambiare le questioni la questione di interesse sulle questioni di genere in Italia ecco allora dal punto di vista come dire tecnico ripeto una cosa ormai che dovrebbe essere nota la quota di genere è sicuramente un dispositivo ingiusto e discriminatorio perché appunto favorisce in determinate occasioni che appartiene a un genere oppure a un altro ma perché lo si usa perché si è riconosciuto che in quel settore in quell'ambito in quella zona nella quale io intervengo con la quota di genere è già accaduta una discriminazione che ha portato a una situazione dispari in origine io con la quota cerco di riparare a questa discriminazione è già accaduta quindi siamo tutti d'accordo la quota di per sé non risolve il problema discriminatorio all'origine io devo agire con la quota per riparare la situazione attuale contemporaneamente e eliminare la discriminazione che ho avuto all'inizio il discorso che facciamo prima su chi ha la strada più facile e meno facile io alla fine come dire accorcio magari a qualcuno il traguardo gli riservo delle corsie perché so che all'inizio già la cosa è stata squilibrata però io se voglio riparare la situazione devo intervenire alla fine ma pure all'inizio perché se no la cosa non cambia e questo è quello che sta avvenendo in Italia in Italia agendo solo con le quote io non sto risolvendo il problema della disparità perché le quote da sole non lo risolvono per quello che riguarda l'appartenenza appartenenza politica prendiamo il caso nel quale è stata di recente appunto coinvolta proprio Meloni il professore che ha una radio in una radio pubblica si lascia andare insulti sessisti su Meloni e scatta la grande solidarietà diffusa nei suoi confronti calma l'insulto sessista è sessista e deve essere vietato e proibito e colpito e punito chiunque lo faccia su quello siamo d'accordo la solidarietà è una cosa che tu fai non è una cosa che tu dici la solidarietà si fa dando un aiuto effettivo alla persona che ne ha bisogno standoci vicino partecipando dando delle cose stando lì con la propria presenza quando ce n'è bisogno quella è una solidarietà la solidarietà è una cosa che tu fai non è che la dici esprimo solidarietà si va bene non è cambiato nulla il fatto che ci sia una donna ci siano più donne presenti e come dire ben visibili in partiti politici di destra non significa che lì hanno risolto le questioni di genere significa che quelle donne si sono adattate all'idea di donna che è in quella formazione politica che è esattamente quello che è successo con Meloni con tante altre quando era mi ricordo prestigiato tante altre non è che portavano con la loro presenza un cambiamento culturale o comunque un'idea di leadership politica diversa da quella intorno a loro no e quindi in quel caso posso poi essere omo donna cavallo tavolo è uguale se porti avanti quella idea non c'entra nulla cioè non fai del tuo dato corporale il tuo S della tua diversità un utilizzo politico a destra è così quindi infatti non c'è nessun problema che il segretario politico alla segretaria politica di un partito fortemente di destra una fratelli d'Italia ci sia una donna che valori persegue quelli fascisti che sono tipicamente valori maschili valori che aderiscono a un'idea maschile che tra l'altro anche qui basterebbe raccontarla meglio questa storia proprio il fascismo ha contribuito in Italia a diffondere culturalmente e quindi come dire in questo non c'è nulla di incoerente il problema che dovrebbero porsi i partiti di sinistra è perché anche noi continuiamo diciamo così a produrre o comunque a portare avanti donne che non hanno una funzione critica per quanto riguarda la leadership ma invece quelle continuiamo a tenere ben lontane dalle situazioni di potere e portiamo avanti donne che diciamo così non disturbano cioè non cambiano il modo di intendere fare politiche alla fine anche loro aderiscono a quello che già il partito dice già quello che il partito fa e quindi possono stare anche ai vertici tanto non non portano in realtà nessun cambiamento nessun disturbo alla famosa la gerarchia di potere che è da conservare questa è la secondo me la realtà dei fatti e quindi come dire di nuovo la presenza di persone di un certo genere da una parte o dall'altra non garantisce nulla quello che garantisce è sicuramente come dire una giusta distribuzione del posto di potere poi se io di nuovo non ho agito culturalmente poi purtroppo il cambiamento non lo attuo semplicemente appunto con la quota se non faccio anche se non lavoro anche sul cambiamento culturale questa è una questione che viene fuori anche in altri ambiti nel senso che sembra che anche nei partiti nei sindacati nelle varie organizzazioni nelle associazioni eccetera la questione tu dici giustamente nel libro che bisognerebbe avere un approccio di genere un punto di vista di genere su tutte le realtà su tutti i problemi su tutte le questioni e quello che accade invece di solito in tutte le organizzazioni è che la questione di genere sia come una specie di perimetro chiuso nel quale vengono lasciate le donne che vi sono libere di esprimersi di scrivere di partecipare eccetera basta che però non disturbino poi la vera attività dell'organizzazione questo è un elemento costante insomma come e questo e questo lo vediamo rappresentato molto in maniera molto evidente negli nei mezzi di informazione quando io nei giornali nei telegiornali vedo che c'è il riquadro rosa lo spazio nel quale si dicono magari anche le cose interessantissime ma io evidenziandolo in questo modo letteralmente impedisco a molti a molte di andarla a leggere quella cosa perché è rosa quindi a me mi interessa no ah queste sono le cose dei femministi per carità quelle cose dovrebbero invece essere in mezzo alle altre per esercitare una vera funzione critica e invece se io le evidenzio così non gli faccio un gran favore perché appunto come dicevi te rimangono in un ambito nel quale poi si chiude e se tu se non sei tu a fare il primo passo per andarci dentro non esercitano una vera funzione critica rispetto a tutto il resto la stessa cosa succede nelle organizzazioni io posso fare un bellissimo comitato di supervisore donna che mi fanno una cosa importante perché lo riguarda la mia organizzazione ok ma ce l'ha un potere effettivo di fare qualcosa no come dire agiscono all'interno di altre parti della mia organizzazione no e quindi sono inutili faccio una bella figura ma di per sé poi questa cosa non porta nessun cambiamento ecco perché in effetti sempre da guardare con un certo sospetto ad alcune forme organizzative perché poi bisogna misurarne effettivamente l'efficacia tanto è vero che anche questo è stato oggetto di studio ormai le dimostrazioni ce le abbiamo sempre più spesso alle donne vengono letteralmente affidati affidate le organizzazioni o comunque le situazioni di comando in particolari situazioni che di nuovo si confanno a quelle che si immaginano essere le caratteristiche femminili quando l'azienda va male quando l'azienda c'è qualcosa che non va quando l'organizzazione scricchiola mettiamo una donna al comando la donna rimette apposta la situazione la donna viene tolta di nuovo e mi ha affidato un uomo questa non è una barzelletta è cominciato a succedere da decenni nelle aziende ci sono i numeri che dicono che va proprio così tant'è vero che si parla di soffitto di cristallo quando si parla di questa cosa che impedisce alle donne di arrivare a posizioni alte girarchie si parla di precipizio di cristallo nella situazione a quale quando l'azienda comincia ad andare male ecco che arrivano le donne e si tenta di rimediare in questo modo alla situazione di nuovo c'è uno stereotipo che vince culturalmente e che fa adottare certe certe caratteristiche per certi versi parlando prima di un partito come Fratelli d'Italia Meloni è lì perché quel partito ha avuto le sue storiacce è stata messa se va bene ha fatto il suo se va male tanto è una donna poi la cambiamo e ci mettiamo un'altra non è una logica lontanissima da una logica che è sempre esistita senti venendo proprio al titolo del libro che non è una domanda ma un'affermazione perché il femminismo serve anche al buono cerco di sintetizzare brevemente in poche in poche cose come abbiamo come ho cercato di dire tutto oggi perché è necessaria questa visione altra delle cose che ti fa accorgere di qualcosa che tu non riesci a vedere tu in quanto uomo non riesci a vedere e non perché sei limitato c'è qualcosa che non va non c'entra nulla ma perché sei educato a un modo di vedere il mondo a un modo di considerare il tuo genere che purtroppo fa male a tutti gli altri a tutte le altre e bisogna rendersi conto che questa non è una colpa perché se sei educato a un certo modo tu non ne hai colpa però una volta che quest'altra parte ti fa rendere conto ti produce delle prove ti racconta delle esperienze su quello che sta accadendo allora tu devi assumerti una responsabilità e dire beh no non posso fare finta di non saperla questa cosa posso fare finta che non è così adesso devo lavorare per cambiare le cose e di nuovo altro argomento femminista lavorare per cambiare le cose significa non semplicemente non non essere violento non essere discriminatore non basta perché sei così inerte indifferente non cambi nulla devi fare qualche cosa innanzitutto parlare con i tuoi congeneri e dirgli forse abbiamo forse abbiamo un problema di genere bisogna che noi uomini ci vediamo un po' più spesso tra di noi a parlare di questa cosa non per dirci l'un l'altro quanto siamo bravi quanto siamo fighi oppure che brutto le cose come vanno male per colpa delle donne no cominciamo a dirci che se a un certo punto un certo punto che accade una volta ogni due giorni qualcuno ammazza la sua compagna la sua ex compagna la sua e questo qualcuno ormai ne abbiamo tantissimi di casi è ignorante è acculturato è ricco è povero è disoccupato è imprenditore è succede a ogni tipo di uomo allora noi abbiamo un problema di genere perché non mi posso continuare a raccontare che quello che fa questa cosa è il matto è lo strano è c'è un problema e no uno ogni due giorni non è non è quello è alla fine di un percorso sul quale siamo probabilmente tutti messi qualcuno si inimita a un fischio per strada una battuta una pacca sul sedere qualcuno ammazza ma la strada come dire è quella il percorso abusante è quello finalmente ce ne rendiamo conto che c'è qualcosa nella nostra educazione al maschile che non va che non funziona anche perché di nuovo i femminismi ci hanno fatto vedere che gran parte dei problemi che abbiamo noi in quanto uomini vengono da questa stessa l'idea del maschile mi viene raccontato che io sono quello che deve portare il pane a casa che deve subbarcarsi i lavori più grossi che deve subbarcarsi le responsabilità più gravi e poi io da questo rimango schiacciato la maggior parte degli uomini alla fine della loro vita si rende conto di essere stato schiacciato da cose che non voleva da cose che non aveva desiderato ma che eh va così eh va così perché qualcuno ti ha raccontato che deve andare così e tu l'hai fatto senza pensarci mentre qualcun altro vicino a te ti ha detto un sacco di volte che le cose non sarebbero dovute andare così ma tu non lo stavi a sentire non la stavi a sentire perché ti è stato educato che le donne non si stanno a sentire parlano delle cose loro tra le donne mentre tu fai le cose da uomo il femminismo i femminismi servono anche a questo a farti capire che non solo non è tanto un discorso di vantaggi che tu acquisisci se abbandoni il sistema patriarcale e che smetti di fare le scelte della tua vita su una logica di vantaggio detto diciamocelo più bruttamente ti piace il capitalismo? no allora perché continui a decidere le cose della tua vita a seconda di quanto ci guadagni? molti mi dicono io che ci guadagno a far femminista io dico non è questione di guadagno devi uscire dalla logica del guadagno perché è quella che ti fa male perché la logica del guadagno ce l'abbiamo già e quello è il patriarcato quello è sicuramente il sistema che mi fa guadagnare più però non funziona è ingannatorio alla fine gli uomini che realmente vincono in questo sistema sono pochissimi no troppo pochi e quindi è un sistema in realtà nel quale tu perdi cambiamolo e cambiamolo innanzitutto da quei racconti sociali che ci costruiscono come uomini e come donne che evidentemente non stanno funzionando e non funzionano appunto come gli ho detto prima per il ricco per il povero per l'acculturato per quello che ha studiato di meno non funzionano per nessuno per nessuna non stanno funzionando e non so quante altre prove dobbiamo avere che questa cosa non sta funzionando continuano a morire persone per questi motivi continuano continuiamo a fare scelte politiche scellerate continuiamo questo sistema non va ancora di recente abbiamo creduto all'idea che arriva un uomo e mette a posto le cose non è che cambiava se era una donna che sia chiaro il problema è che uno è quello che decide perché c'ha le idee migliori è quel sistema che non va e quello è un sistema patriarcale l'abitamide dove uno sta in cima decide tutti gli altri è quello che non sta funzionando però come detto i sistemi culturali cambiano quando tutti e tutte ci si impegna nel cambiamento se aspettiamo che arriva uno una che arriva e lo fa cambiare continuiamo a non credere nell'idea giusta perché non succederà quanti millenni devono passare non funziona così non arriva quello che cambia le cose questo sarebbe anche il nostro obiettivo come tu dici spesso lenti ma inesorabili io volevo intanto dare la parola a qualcuno se ci sono delle domande o anche semplicemente delle osservazioni e vi potete come ho detto prima iscrivervi nella chat se avete domande da fare prendete pure la parola forse è stato chiarissimo e limpido ci tengo a dire una cosa sono assolutamente a disposizione di chiunque sui vari social nei quali sono non sarei come dire molto davvero inutile nel mio lavoro di divulgatore se lo pensassi chiuso all'ora e mezza nella quale stiamo insieme se adesso vi vengono tante domande volete fare metterle a posto non c'è problema mi raggiungete dove sono presente sfruttiamola sta cosa che sta molto sui social e lì parliamo di quello che volete senza problemi al di là di oggi vai Giada intanto Giada Salve buon pomeriggio mi presento sono Giada ho 28 anni e sono tantissimi anni che combatto per la violenza di genere in modo particolare la violenza psicologica negli ultimi giorni si è scatenato il caso come sappiamo tutti il caso Erfaina che ha portato alla luce il catcalling no 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 c'è stato un problema con il mio microfono perdonatemi è interessante capire il punto di vista di Lorenzo se posso dare del tu sul catcalling mi piacerebbe veramente sapere che cosa ne pensa e poi vorrei dire una cosa sui colori e vorrei dire che mia madre già quando sono nata io qualche anno fa 28 anni fa lei non voleva sapere il sesso del bambino e non ha voluto mettere né fiocco rosa né fiocco azzurro ma un bel fiocco verde io avevo tutto verde armadio culla perché a lei non interessava il sesso non ha voluto sapere fino alla fine e mia madre mi ha insegnato i valori del femminismo mi ha insegnato che una donna deve essere indipendente forte e deve farcela da sola questo io la ringrazio tantissimo per questo e però purtroppo uscendo fuori di casa avevo una società che voleva la donna con determinati canoni di bellezza che doveva fare determinate cose e l'uomo che poteva fare quello che voleva sono stata anch'io vittima di catcalling proprio qualche giorno fa e cioè non devo neanche dire come ero vestita perché non penso sia una giustificazione cioè non penso sia una cosa per cui sentirsi in colpo fondamentalmente ecco e volevo solo sapere per quanto riguardava il catcalling grazie mille e buona buona serata a tutti allora il catcalling ma ovviamente non lo dico io è una cosa studiatissima sulla quale c'è una ampia letteratura è un abuso di potere molto tranquillamente qualcuno si arroga il diritto di poter parlare in pubblico e liberamente del corpo di qualcun altro questo è quello che succede ed è come dicevamo prima il gredino iniziale di quelle forme di abuso che poi in qualche disgraziato caso arriva anche all'uccisione di quell'altro perché è un abuso? perché appunto non c'è alcuna come dire non c'è alcun motivo motivo dialogico nel discorso per cui si giustifica o si spiega il fatto che qualcuno si senta autorizzato per strada comunque in un ambiente pubblico a parlare del corpo di quell'altra la strausata scusa che è però è un complimento ovviamente non spiega nulla soprattutto perché i complimenti sono qualche cosa che normalmente si negoziano cioè prima siamo d'accordo già su che cosa è un complimento se c'è una parte sociale che immagina che parlare del corpo di qualcun'altra sia di per sé un complimento è perché questa parte sociale si è presa il diritto cioè ha compiuto un abuso di sapere che cos'è in ogni caso in ogni situazione un complimento nei confronti di qualcun'altra e questo complimento è parlare apertamente il pubblico del corpo di come ha fatto il corpo di qualcun'altra è chiaro che come sei vestita ma lo sappiamo già da chi lavora da tanti anni nei centri antiviolenza non c'entra nulla con queste pratiche che sono tutte forme di abusi di potere anche lo stupro lo è non conta nulla come sei vestita cosa hai fatto c'entra niente non c'entra niente quello che c'entra è il fatto che io proprio perché sono in una situazione pubblica mostro devo mostrare il mio potere e lo faccio prendendomi il diritto di parlare liberamente nel modo che voglio del tuo corpo è chiaro che non è che mi aspetto sta consapevolezza da personaggi come Faina però quello che è successo nella vicenda è molto istruttivo perché lui se ne è uscito lamentandosi che ah non si può più fare non si può più di niente non si può più fare un complimento a una donna raccontando già tutto un ruolo di potere che normalmente gli uomini assumono alla pioggia di risposte diciamo negative ecco che gli sono arrivate lui ha risposto con l'altra tipica reazione maschile a questi atteggiamenti il vittimismo ah ma io io volevo dire che è però voi non capite è ma allora così limitiamo la libertà perché tipica maschile di nuovo non perché i maschi ce l'hanno sta cosa nella testa ma perché sei stato educato a rispondere in questo modo cioè a non mettere mai in discussione la tua posizione di partenza ma a giudicare sempre la posizione altrui o è eccessiva perché pretende che tu non ti prenda delle libertà e che non è una libertà l'abuso di potere non è una libertà è una mancanza di rispetto della libertà altrui oppure io sono vittima della libertà di qualcun altro adesso le donne si sono organizzate e si sono inventate che non si può più dire che e quindi di nuovo è un attacco alla mia libertà come vedete in entrambi i poli di questa questione non si mette mai al centro quello che dovrebbe essere il discorso più importante chi ti ha dato il diritto di parlare quando ti pare del corpo di qualcun altro perché poi non so se Faina ci arriverebbe a capirlo ma insomma a parti invertite è facile capire che a nessuno va va che il proprio corpo sia oggetto di discussione pubblica perché mai non ho capito o io lo faccio come dire di mia professione lo sportivo beh certo sportivo di professione possiamo immaginare dei contesti nei quali possa essere lecito parlare del suo corpo però nell'ambito relazionale o sessuale quasi mai non c'entra nulla invece per una determinata categoria sociale sì e questo in questo consiste l'abuso Daniele grazie mille eccomi complimenti per l'iniziativa molto molto interessante avrei una domanda e vorrei rispondere anche io alla domanda quella perché il femminismo serve anche a noi uomini insomma dare anche una mia visione rispetto alla domanda spesso hai detto che è una questione di cultura ma l'iniziativa di cultura tu intendi che è una questione ideologica cioè dell'ideologia della classe dominante che crea appunto queste ideologie queste oppressioni basate sulle discriminazioni appunto per creare delle discriminazioni sociali cioè intendi quella come quella cultura intendi quella cioè l'ideologia della classe dominante che si ripropone poi sulla 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 classe lavoratrice sulla classe possiamo dire il proletario insomma rispetto alla ideologia borghese per semplificare rispetto alla questione del perché noi uomini no uomini perché dobbiamo lottare anche noi diciamo dal punto di vista definirei contro il maschilismo diciamo come uomo lavoratore credo che sia importante sia fondamentale perché diciamo sono l'oppressione maschilista viene utilizzata nell'ambito del lavoro per dividere insomma la classe lavoratrice per intenderci nel lavoro siamo 50% uomini 50% donne e credo assolutamente che la lotta contro l'oppressione contro il maschilismo deve essere collegata unita assolutamente contro quella dello sfruttamento le cose si collocano appunto perché dico di lottare appunto contro il maschilismo perché anche neo uomini aiuta per lottare contro lo sfruttamento sono perfettamente d'accordo con te Daniele quella cultura di cui parlo è appunto una idea di divisione del corpo sociale che esiste da molto prima di borghese proletari poi come dire l'occasione del capitalismo ha dato altri strumenti altri mezzi altre occasioni ma esisteva già da prima e come hai notato giustamente tu è un tipo di potere che serve a dividere il famoso divide e timpera dei romani funzionava benissimo tu quando c'hai un corpo sociale che ce l'avrebbe con te tu fallo a pezzi dividilo in lotte separate in battaglie separate così riuscirai sempre a dominarlo è una logica tipicamente patriarcale maschilista appunto se io come dire invece di far notare quanto ciascuno ciascuna di noi è al centro di diverse forze oppressive e quindi la lotta per forza è sempre comune contro tutte perché se no mi libero da una cosa ma poi tanto c'ho addosso quell'altra e quindi non ne esco mai esattamente questo è il modo secondo me corretto di porsi nei confronti di questo tipo di lotte è chiaro che per come sono fatto cioè per come dire la differenza che riguarda il mio corpo in alcune lotte sono diciamo così protagonista in alcune lotte sarò quello che appoggia quello che quello che è l'alleato diciamo così perché ovviamente appunto le oppressioni colpiscono in maniera diversa quindi non è che devo essere sempre io al centro di tutto ma nessuna lotta mi può essere stranea perché comunque le sue conseguenze anche se io non sono l'oggetto diretto di una certa oppressione le sue conseguenze alla fine le pago anche io Maria Grazia non la vedo più non la vedo più è il microfono Maria Grazia non è aperto non ti sentiamo scusate ti ringraziamo ti ringrazio Lorenzo di queste cose che ci dici perché siamo abituati a sentire da donne sentirle da uomini ci fa un certo effetto vorrei stare bene stare proprio dentro quella domanda che era il titolo anche del nostro incontro perché il femminismo serve anche agli uomini tu ci hai così risposto dicendo che bisogna uscire dalla logica del guadagno del vantaggio dell'interesse perché se non si esce da questa logica non si può neanche essere felici gli uomini credo non siano felici in una situazione di disparità però è anche vero che ci dici come lo intendo io ovviamente cioè è anche vero che ci sono delle resistenze così grandi e un vantaggio così grande soprattutto come nell'oppressione di classe che se non viene messa giù dura mai l'uomo rinuncerà al suo vantaggio perché è un vantaggio troppo carino no? Cioè ad esempio io sono madre di un figlio che ho educato ad essere in un certo modo poi lui si è trovato diciamo una donna molto diversa da me insomma una donna che gli fa tutto e diciamo questo vantaggio è un vantaggio che vedo in tanti altri figli in tanti altri giovani no? Che magari fanno un percorso finché hanno una certa età poi dopo le cose cambiano quando ci sono i figli è sempre più comodo lasciarli alla donna allora vengo alla domanda e la domanda è questa premesso che è chiaro che noi dobbiamo costruire un rapporto di forza che è un rapporto di forza personale ma anche un rapporto di forza collettivo con l'uomo che ci opprime e con gli uomini che opprimono quindi questo è evidente diciamo quale potrebbe essere secondo te un modo per riuscire a dialogare con uomini che non vogliono dialogare e che però continuano a dire che loro sì sono sensibili alla questione di genere tutte queste cavolate qua ad esempio all'interno dell'organizzazione il fatto che oggi non siano presenti uomini che diciamo in questa organizzazione hanno un peso hanno una leadership sta a significare proprio che a questi uomini non gliene frega proprio niente della questione di genere e siccome sono i fatti che contano e non le parole noi sappiamo che è così però non riusciamo a costringerli diciamo a venire diciamo a a ragionare su questa questione come se fosse una questione importante e tutti gli uomini sempre come ha fatto Daniele anche prima cosa su cui peraltro possiamo anche essere d'accordo però adesso mi dispiace che se ne va quindi non sente continuano a ragionare sempre sulla alternativa questioni di genere questioni di classe come se le due cose fossero contrapposte e non intersezionali come se le due cose fossero una esclusiva una viene prima l'altra viene dopo ecco da questo punto di vista qua noi non riusciamo a fare passi in avanti con gli uomini dell'organizzazione hai qualche suggerimento innanzitutto come hai detto anche tu si tratta di lotte sociali quindi per quanto io possa essere un bravo educatore tu una brava educatrice poi quell'individuo che noi abbiamo quegli individui che noi abbiamo pensato di educare in un certo modo si trovano intorno a una società e la pressione sociale è ovviamente più forte c'è poco da fare quindi non è che si tratta come dire di un fallimento è una cosa che a me molti dicono che bello tu cresci i tuoi figli femministi e io dico no non è possibile sarà una scelta che forse faranno loro io intanto li rendo sensibili a certe forme di potere poi vediamo che cosa succede come costringi chi sta in alto a scendere al tuo discorso come un'azione sociale collettiva come si è sempre fatto chi fa girarchie tra i problemi dice appunto no prima la classe poi il genere è uno che riproduce nel fare girarchia di problemi con la stessa girarchia che in realtà sta difendendo se io metto in ordine i problemi uno più importante uno meno importante e non li affronto insieme sto discriminando sto dicendo che il problema di quelli di quelle può aspettare e quell'altro viene prima e questa è una discriminazione potete dirlo tranquillamente a queste persone guarda che se tu pensi che il problema del contratto il problema viene prima del problema di genere stai discriminando sei esattamente come quelli che tu pensi di andare a combattere discutendo del contratto no sei uguale perché non si fa così le dimostrazioni le abbiamo avute tante le lotte si fanno tutte insieme e tu devi partecipare a tutte le lotte se no stai a capo di che? di niente perché credo che fosse lo stesso discorso mi sembrava di capire che facesse Daniele appunto se tu come dire combatti una cosa tanto vince l'altra e quindi quel risultato che ti sembra di aver ottenuto in un settore in un campo in una lotta viene immediatamente dissolto dalla perdita che hai avuto in quell'altra è sempre andato così non è una novità non è una cosa di questi anni tanto è vero che perché la storia ci ha fatto vedere che anche laddove a volte sembrava che avessero vinto i lavoratori poi questa vittoria era sempre un po' un po' zoppa un po' manchevole c'era sempre qualcuno che era stato escluso c'era sempre qualcuna che era stata fatta fuori c'era sempre è una cosa che abbiamo visto in come dire in situazioni di conflitto che hanno una storia molto più lunga di quelle del lavoro i conflitti di religione i conflitti razziali anche lì si è visto che o tu lotti per tutte le cose oppure alla fine ti sembra di aver ottenuto un traguardo di aver raggiunto un traguardo ma non è efficace non funziona non va perché altrove altre oppressioni hanno avuto la meglio quello che si può cercare di fare a queste persone non è semplicemente fargli capire che la loro leadership non è gradita perché non sta funzionando non si occupa dei problemi e che i problemi non si mettono in fila perché se li metti in fila stai dicendo che tu non ti vuoi occupare dei problemi stai dicendo che tu te ne vuoi occupare di uno solo e allora non sei un buon leader perché i leader non si occupano di una sola cosa sono buoni tutti che c'è qua i leader sono quelli che si occupano di tutto di tutte le cose insieme se non lo sai fare mi stai dicendo che non sei un buon leader che è una cosa che di nuovo tanti femminismi hanno insegnato hanno raccontato e hanno fatto vedere non ti puoi battere solo per alcuni diritti non ti puoi battere solo per certe possibilità non ti puoi battere per far arrivare certe cose solo a qualcuno non stai facendo una gran cosa e questo va detto espressamente e chiaramente Mario devi attivare il microfono buonasera Mario Carucci non è un intervento più che altro è un ringraziamento all'interlocutore che ci ha è stato chiarissimo insomma è stato molto utile questo incontro e diciamo lo ringrazio e gli faccio i complimenti due piccole cose che vorrei dire riguardano uno cioè la la questione delle cioè come ha detto bene l'interlocutore il problema è soprattutto culturale quindi è chiaro che su questo bisogna insistere perché i modelli prima che siano accettati o meno se non vengono fatti propri se non vengono interiorizzati eccetera e soprattutto diciamo serve smontare il meccanismo che è una questione naturale no? cioè tutto quello che di solito è autoritario viene presentato sempre come non solo nella questione di genere anche in altre situazioni o meno cioè viene presentato sempre come se è così cioè naturale che sia così che il mondo è questo che vuoi o meno eccetera quindi l'intervento insomma come ha fatto Lorenzo insomma diciamo è utilissimo e che smonta e su questo dobbiamo insistere e lavorare perché c'è questo problema detto questo però credo pure che questo discorso vada fatto soprattutto da con da parte delle donne perché per la mia esperienza insomma di vita che ormai è abbastanza lunga un meno eccetera e credo che se non c'è il movimento se non c'è la lotta dei soggetti che subiscono di più la discriminazione è difficile che la 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 soluzione sia data solo perché i maschi diventano bravi e e che capiscono che quello è il modello insomma credo che anche perché poi spesso è un modello culturale è anche introiettato insomma no viceversa viene subito come appunto come dicevi anche te Moira quando le donne stesse dicono ma hai fatto una scelta della maternità cioè questo problema è introiettato e il resto insomma il femminismo preso insomma maggiore questo è un altro punto che vorrei dire prese maggiore forza quando c'è stato pure un movimento nella società no un cambiamento di valori un cambiamento di prospettive culturali o meno eccetera e dei movimenti che rivendicavano diritti eccetera quella è stata anche la fase alta quindi detto questo però credo anche che il problema della società come è stato detto giustamente da Lorenzo c'è il modello anche esterno quello c'è il modello della società economico culturale cioè se questa è una società competitiva individualistica eccetera o meno è chiaro che ma perché dovrebbe venire non dovrebbe venire un modello patriarcal o meno certo non è indifferente il contesto sociale insomma i mali non è solo perché litighiamo tra uomini e donne no c'è il problema e anche generale del contesto di quale società c'è viviamo meno eccetera su questo che solo la lotta di classe poi porti a un'effettiva parità tra uomini e donne io ho molti dubbi credo che se non c'è una discesa in campo anche del soggetto femminile e una presa di coscienza del soggetto maschile è difficile che questo avvena insomma la storia pure nella nella sinistra quella sacra eccetera o meno gli esempi di donne che 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 hanno assunto ruoli di vertice di cosa o meno sono abbastanza poche insomma la predominanza cioè io credo che una volta anche se avvenisse comunismo o meno credo che il problema di genere è presente sarà uno dei problemi sui quali si dovrà lavorare uguale insomma questo secondo me è chiaro che più un modello della società è un modello ugualitario è un modello che prende in considerazione gli altri più il terreno per per lavorare sarà più facile insomma e i contrasti saranno più facilmente risolvibili però che solo il cambio di classe porti anche al cambio di genere automaticamente io non ci credo insomma grazie essere un paese che non si racconta questa storia nei libri di scuola le lotte delle donne le lotte per i diritti non ci sono proprio non ci sono la cerchi nell'indice non c'è paragrafetto riquadro rosa ogni tanto giustamente che ti racconta due cosette ma non c'è quindi è molto difficile raccontare per esempio quello che è successo cioè che l'Italia è stata per molti anni al centro è stata protagonista è stata modello per lotte femministe e di rivendicazioni di diritti in tutto il mondo poi è andata come è andata ma siamo stati al centro di importantissime lotte questa cosa non la ritrovi non la racconto non fa parte del nostro racconto sociale ed è un danno molto grave perché appunto ancora oggi tanti tanti movimenti si immaginano come i primi ad aver fatto una certa cosa e no non è vero quasi mai in Italia c'era già stata questa cosa poi si è persa ma soprattutto non viene raccontata e che queste lotte continuino è assolutamente vero certo hanno contro rispetto a prima anche un potentissimo arsenale di comunicazione contraria che veramente non ti fa sapere non racconta non mette nella giusta luce non non parla onestamente di tante cose che stanno succedendo e che sarebbe molto importante far diventare più patrimonio pubblico più conversazione pubblica più senso comune e che invece vengono continuamente zittite banalizzate semplificate diciamo così in modo che appunto non se ne faccia discorso sociale succede anche questo sì ma il mio scusate non è che io intendevo cioè dire che proprio perché insomma l'ho vissuta le fasi eccetera o meno non era mica un cioè secondo me è su questa strada che bisogna andare avanti bisogna continuare cioè questo era il mio senso non è una critica che voglio scaricare sulle donne il problema a me non sono no no aggiungevo una difficoltà ulteriore cioè che spesso tra loro le donne hanno difficoltà anche a sapere cosa fa il movimento la realtà territoriale che mi sta anche vicino perché effettivamente non viene raccontato non si fa vedere non si fa sentire e questo è un problema anche come dire ulteriore che si aggiunge a una forma di lotta è già di per sé difficile grazie tanti sentite a me dispiace veramente tantissimo no hai ragione Lorenzo si dice si è fatta una certa dovrei andare però